Terra Amara, anticipazioni dal 19 al 24 dicembre, Zuley e Di Amare Yilmaz, Muigan rapita. Le nuove puntate di Terra Amara sono confermate su Canale 5 nel corso della settimana che va dal 19 al 24 dicembre 2022. Le anticipazioni della soap opera turca rivelano Muigan sarà vittima di un rapimento. Demir invece, dopo aver truncato i rapporti con sua mamma Unkar, comincerà a rendersi conto di non stare bene e di voler riallacciare il rapporto con la donna. Le nuove anticipazioni di Terra Amara, della settimana fino al 24 dicembre 2022. Rivelano che Yilmaz avrà un appuntamento e cena con la dottoressa, ma quest'ultima non si presenterà. Il motivo? Muigan verrà trattenuta con l'inganno in ospedale da due uomini che le chiederanno di dargli una mano con un parto e in tal modo le impediranno di partecipare all'incontro fissato con Yilmaz. Il colpo di scena arriverà nel momento in cui la dottoressa verrà rapita dalla famiglia Yunkachi e si ritroverà in serio pericolo di vita. La situazione per Muigan si preannuncia particolarmente complicata e ostica, sarà necessario l'intervento immediato di Yilmaz. Il quale reagirà in maniera tempestiva e metterà in salvo la donna, ospitandola da lui per una notte. Occhi puntati anche su Demir, le anticipazioni della soap opera rivelano che il ricco imprenditore si ritroverà a soffrire perché sua mamma ha alzato un muro di indifferenza nei suoi confronti. Demir sarà particolarmente provato da questa situazione, e a quel punto deciderà di ritornare di nuovo alla villa insieme a Zuley e Adnan. Muigan apparirà ancora scossa dopo il rapimento che avrebbe potuto costarle caro e racconterà i dettagli ai suoi colleghi. Yilmaz invece, dopo aver spiazzato la donna con una proposta di matrimonio, inizierà a essere preoccupato di fronte al modo di fare titubante della dottoressa. Accetterà oppure no di sposarlo? Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Nyal rivelerà a Zuley e di essere a conoscenza della sua storia con Yilmaz. Le parole della donna suoneranno come un ricatto, al punto che Zuley e perderà completamente fiducia nei confronti della sua amica. Il colpo di scena di questi nuovi appuntamenti con la soap opera turca di Canale 5. Previsti fino al giorno della vigilia di Natale 2022, arriverà quando Zuley e confesserà di essere ancora innamorata di Yilmaz, nonostante il suo matrimonio con Demir. Grazie a tutti! Grazie a tutti!